dimmi tu se una termocamera da 640 punti no da 55 metri riesce praticamente a fornirti un dettaglio del genere dji auto robotics quindi qui vedi le finestre l l'area più calda rispetto alla parte del muro in ombra che è più fredda rispetto all'aria calda del vabbè dei fuori non c'è paragoni quindi 1 e 2 quindi spiegami come un termografo può fare un'analisi termica in in queste condizioni dji dual auto robot dji auto robot qui il cavo non si vede qui il cavo non si vede sull'auto eccoli qua questa è una cosa pazzesca 1 e 2 1 dji auto qui tu non fai nessuna indagine termica qui qui hai perso tutto ma qui stavamo nemmeno a quindi ma nemmeno a 10 metri di distanza qui prego aldo ho piacere di incontrarti finalmente dopo qualche mese ci vediamo per messaggio tutto bene viaggio si ok allora aldo e ci tenevo a farti insomma vedere testare la due le due macchine no a te interessa una termocamera radiometrica quindi è fondamentale per le analisi che devi fare dotarti di una termocamera che abbia una sensibilità importante cioè che riesca a intercettare a campionare le differenze di emissività anche di diciamo di pochissimi gradi forse anche sotto allora questo è il dual quindi sensore da 6 40 per 5 12 radiometrico esporta anche tif quindi poi puoi lavorare con qualsiasi software anche open source e che differenza di temperatura riescono a sotto i due gradi sotto il livello di specifiche sotto i due gradi ma le misurazioni che abbiamo fatto in effetti hanno dimostrato che riesce a beccare anche sotto il grado poi ti ripeto sono tutti test con firmware che si sono susseguiti nel nel giro di insomma quest'anno la visibile è una 48 megapixel è una 12 megapixel reali quad byte però zoom digitale 16 per quindi con questa riesce a fare ispezioni e termografia con post processing radiometrico ti danno anche un software tipo quello della della dj alla fine uguale per la lettura di questa per la lettura di questi file portati in esportare anche in jpeg tipo le puoi esportare in jpeg però ti danno tre formati c'è il tif un formato proprietario rx in realtà tutti i dettagli dell'emissività e poi il classico jpeg che è una rappresentazione colorimetrica tutto questo lo puoi comunque variare anche dopo utilizzando il software puoi variare la palette puoi fare poi tutta la l'indagine termica con i vari strumenti c'è la region c'è il patto c'è il punto ti genera un report pd in formato world che non modificare quindi gli strumenti professionali ci sono tutti per poter fare questa questa analisi noi e c'è un software specifico da sinare te lo devi installare e per pc quindi non è seguibile per lo scarichi è gratuito per lo scarichi dal sito della robot e ti dico si stava anche sul sul hai già l'app explorer che in tempo reale ti dà già tutte quelle funzioni perché tu mentre fai l'ispezione puoi controllare spostare il marker puoi impostare una regione lui automaticamente ti segnala con un marker rosso all'interno della regione il punto più caldo con il marker blu quello più freddo ti dà le temperature medie questa region tu volendo te la puoi spostare dove vuoi trasportare diciamo da quello che vedi normalmente sono la telecamera normale tu puoi avere o il picture in picture visibile e al centro la parte termica o solo termica o solo visibile simile poi a tutte le funzioni c'è all'isoterme in roi il controllo delle temperature minimo e massimo il range di campionamento quindi hai tutte le funzioni che servono per fare un'analisi real time addirittura gli allarmi cioè se tu stai vedendo un impianto un impianto no delle tubazioni vuoi verificare se queste no aprono magari i rubinetti non so che cosa c'è entra il gas entra l'acqua calda eccetera vuoi verificare che le temperature non superano un certo threshold una un certo range tu imposti un allarme verso l'alto e verso il basso a quindi da anche proprio la temperatura del c'è non solo tipo una scala di da proprio la temperatura di quel di quella di quell'oggetto di quella del sel per pixel in modo interattivo vai con il dito tappi e ti dà la temperatura questa è proprio la funzione basic in più alla regione in più agli allarmi quindi all'interno di una regione no che è un'indagine che lui fa in quel momento real time tu li vai a stabilire se la temperatura supera i 60 gradi flash mi in qualche modo ok quindi siccome levo 2 tu lo puoi connettere in streaming si con no con una control room magari no e stai facendo stai puntando un impianto magari dall'altra parte vedono questi allarmi e agiscono prendono delle delle opportune diciamo azioni antonio invece la camera dual si può utilizzare sia con levo enterprise e quello normale giusto allora la politica dell'auto è il da sempre è quella di avere certo investi sul modello e puoi cambiare le camere quindi quindi ce ne sono tre adesso quindi sia il modello enterprise che il vecchio evo 2 standard hanno condividono le camere le batterie per cambiare sono intercambiabili quindi questo è un valore aggiunto perché non ti costringe l'azienda a cambiare drone per fare la fotogrammetria fatto questa domanda perché invece la dj ai dovrebbe essere che tu hai soltanto o la termocamera si o diciamo la camera non anche sul nuovo mavic 3 enterprise cioè tu compri sono due modelli separati non sono intercambiabili voi tutte e due devi spendere due o qua come solo la termocamera sembra di suggerlo con il 6k certo è un valore no aggiuntivo ma molto e poi il fatto che non devi chiedere il permesso a loro per per pilotare un drone cioè se tu sei un operatore autorizzato sì perché la procedura non solo c'è la procedura ma devi rendere contare dal conto anche la dj ai perché devono sapere sempre dove devono sbloccare l'app diciamo perché le fornisce tutta l'autorizzazione che hai ricevuto quindi praticamente devi aspettare anche loro non solo magari non trovi il pin non ti arriva devi chiamare devi mandare una mail che sia una professionista come te non può assolutamente avere bene quindi questi adesso li mettiamo in volo noi avevamo già fatto grazie al tuo input qualche settimana fa abbiamo fatto un test importante adesso ti voglio far vedere i risultati perché qui si parla di una 6 40 per 5 12 ok termica radiometrica sull m 30 t che è la punta di diamante in questo momento no dei droni enterprise sotto i quattro chili della della dj ai abbiamo una che una termica che sulle specifiche a livello di specifiche è superiore quindi qui abbiamo se non sbaglio 1280 punti termici radiometrici in realtà se confrontiamo il microbolometro qua il sensore come dimensioni rispetto al dual siamo lì ok vediamo francesco se riesci a riprendere quindi la dimensione del del sensore è praticamente molto simile quindi se non la stessa a me sembra addirittura superiore cosa del dual comunque vabbè ma al di là di questo quindi questo vuol dire che la il campionamento dell'emissività non mi aspetto risultati diciamo enormemente diversi rispetto alle audio però è sulla carta a 1280 punti e questa è una macchina un po diversa e più orientata diciamo all'utilizzo nel mondo protezione civile eccetera perché uno zoom ottico di oltre credo 20 o 22 per quindi misto ottico digitale arriva a 200 e anche il laser ai laser range fino chilometro e due credo quindi ti misura le distanze fra oggetti quindi è una macchina che è nata è nata per quel tipo di mestiere ok però adesso tu mi hai chiesto di verificare la differenza delle due termocamere questo è fondamentale perché devi fare una scelta e un budget importante ma qui con batterie c'è lo stesso un kit paritetico il confronto è 14 mila euro qualcosa anche di più contro gli 8.500 9 mila nella migliore delle configurazioni dell'auto tenendo conto che una batteria dell'auto costa 190 200 euro queste volano questo vola con due batterie e mi pare da 350 euro l'una quindi vola con 700 euro cioè ai dei costi completamente diversi poi quindi bisogna fare un po e due contro quattro chi insomma c'è un po da ragionarci allora se non so se altre domande sull m30 che quello comunque lo vediamo in azione no vabbè no in realtà il tuo focus è sulla camera è sulla camera poi diciamo solo che più o meno i tempi di volo più o meno sono identici sì questo vanta sulla carta anche dei tempi maggiore adesso mi ricordo se era 45 minuti roba simile nella realtà sono sempre un po più di mezz'ora va beh diciamo un po tutti tutti quanti sulla casa non volano un po di più bassi in assenza di vento volano magari in hovering se li tieni così a mano rispettano rispettano quelle che le specifiche voi in volo è tutta un'altra cosa ok allora ti faccio vedere un attimino il risultato questi sono i tuoi gcp ok che sono sono questi che noi stampiamo in forex un inchiostro uv e questi sono riconoscibili fino a 50 60 metri automaticamente da metà shape non dovrai più andare foto per foto e quindi sarebbe una vera di tempo sì sì ti risparmi un sacco di tempo va bene ok allora qui avevo predisposto un powerpoint allora questa è una foto del dell m30 quindi dj come vedi ma cioè se puoi fare un ti puoi avvicinare quindi dj ok quindi se tu la vedi questa è una foto da non so se vediamo proprio 1280 punti per 1024 cioè in teoria il quadruplo della risoluzione rispetto a 640 per 512 ok sono tre quadranti in più quindi questa è dj questa invece è una foto del è una foto è un termogramma come dite voi no irx del dual se andiamo a vedere stiamo parlando di 640 punti per 512 va bene la metà e si cioè le proporzioni sono queste questa è l'originale del diciamo sullo schermo dell'autel e questa vediamo proporzioni 1 a 1 no è questa qui questa è una 1 1 e 2 ok ovviamente al quadruplo della risoluzione vabbè però volevo che tutti soffermavi un attimo su quello che in realtà campiona no per esempio se zoomiamo se zoomiamo qui no a me questa foto sembra già questo termogramma sembra più upscaled che un termogramma originale cioè quello che io ti ho detto prima ti ho anticipato telefonicamente è che qui io vedo più punti termici rilevati sì ok quindi questo questo è l'evo 2 quindi se noti bene anche questa parte qui a sinistra ok lui ha campionato l'emissività anche di questo e qui invece ci sono dei buchi evidenti ma anche nel mio orizzontale che si vedono su e poi non ci sono i dettagli guarda uno quindi dj e auto robotics quindi qui posso anche zoomare voglio dire al di là di di sgranare dal punto di vista ma dovrebbe in realtà dovrebbe sgranare pure di più per la dimensione invece no è pazzesca questa differenza guarda come piatto ma anche quello la più piccola a destra oppure l'albero anche l'albero l'albero effettivamente guarda la 2 cioè il quale di praticamente come le venate sull'albero le venature dell'albero qua vedi quindi 1 e 2 1 dj out ho notato per un'altra cosa guarda i fili del sistema della corrente dietro quei due non quelli la quei tre ma questi 2 1 e 2 cioè lui ha campionato comunque due differenze importante guarda l'altro non ci sono hai ragione è incredibile no no questa questa è un'altra questo è un test pazzesco cioè perché qui si sta parlando di due macchine diverse un architettura diversa software diversi eccetera eccetera sensori sulla carta diversi ma i ragazzi qui c'è poco da scherzare quindi cioè tu hai tu devi guarda qui come si vedono ma questo è il fatto del dei cavi sono testo pazzesco sul fatto dei cavi dietro perché uno magari va a notare diciamo quello che è in primo piano però sembra vedere dietro cioè quei cavi non si vedono qua cioè si intravedono guarda come la staccionata è già no queste dj ok ma vedi che c'è una differenza qui tu non fai nessuna indagine termica qui qui hai perso tutto ma qui stavamo nemmeno a quindi ma nemmeno a 10 metri di distanza qui cioè ragazzi allora questa qui il drone era a terra ok eccolo qui c'è poco da ragazzi uno e due ma davvero qui praticamente tutto piatto guarda qui è tutto piatto qui non ha preso nulla e qui la differenza c'è i cavi accionata rispetto e qua si vedono se tu vedi cavi a sinistra sono la visuale che hai con il dj cioè torna dietro di meno come tu vedi questi due se c'è no in realtà non li vedi e stanno qua i cavi su questi quattro e non questi no non sono questi sono qui ce ne sono due qua hanno qui è che qua non li vedi proprio eccole invece invece nel nell'auto l'auto e tu vedi quelli là come vedi qua quelli della dj che in primo piano 1 e 2 quando francesco fai vedere il puntatore qui il cavo non si vede qui il cavo non si vede sull'auto eccoli qua questa è una cosa quindi quello che dobbiamo spiegare un po gli amici che ci seguono che la termocamera non devi vedere come dire la il jpeg la foto perché la termocamera non vede nulla percepisce le emissività dei corpi quindi indipendentemente dalla dimensione del pixel del nel jpeg e tu devi vedere se quel pixel è rappresentato dalla giusta dalla corretta emissività e qui abbiamo due implementazioni completamente diverse io qui non riesco a fare un'indagine termica corretta qui sì ma abbiamo anche altri esempi allora questa è una persona questa è una persona no qui invece è tutto no qui si vede proprio la differenza dj dual auto robot dj auto robot allora a parte la persona un'altra cosa che risalta è questi sono questi muri di cemento armato con forellati no è qui sembra un muro pieno non vedi nulla sembra un muro dj auto robotics quindi qui vedi le finestrelle l'area più calda rispetto alla parte del muro in ombra che è più fredda rispetto all'aria calda del vabbè dei voli non c'è paragone quindi 1 e 2 quindi spiegami come un termografo può fare un'analisi termica in in queste condizioni niente io adesso ci tenevo perché tu devi comunque decidere su un budget importante noi qui abbiamo comunque lo stato dell'arte dj uniche auto robotics quindi insomma ci tenevo a farti decidere in piena consapevolezza di di tutto questo perché poi alla fine le camere le abbiamo settate alla perfezione alcuni risultati che non ci hanno già soddisfatto dal dall'evento che abbiamo fatto con rdn stavamo ricercando un figurante all'interno di un bosco era tutto appiattito anche lì quindi a me questo sensore non sembra un reale 1.280 ma sembra un 640 in upscaling con dei problemi di proprio campionamento dell'emissività avete provato anche a fare un test con tipo rilievo topografico come da ship termocamera e sì lì lì ancora peggio perché perché metà shape e talebano come software cioè tutti i softi distraction for motion se le foto non hanno dettagli lui non trova non trova le sovrapposizioni questo è un test che avevo già fatto qualche mese fa con il mavic 2 enterprise advanced ok non c'era verso di fare stitching assolutamente non c'era verso di fare lo stitch invece con con il dual abbiamo fatto diversi lavori ecco questo è uno spettacolo allora questo è un ortofoto allora facciamo una cosa estrema cioè guarda guarda qui ma guarda qui perché poi il jpeg il jpeg che io non si vede questo dettaglio qui siamo proprio al massimo ti posso chiedere la nuvola sì 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 guarda qui guarda la dance cloud da paura da paura cioè ragazzi e sono tutte foto a 640 ma è un 640 vero cioè perfettamente contrastato cioè con se vediamo anche l'image quality di metashape calcolata da lui cioè abbiamo no questo è un indice relativo di bontà della foto ai fini del della elaborazione della nuvola sparsa ok e quindi della sticciabilità chiamiamolo così in gergo non tecnico e 09 098 e proprio sono valori altissimi considera che il mavic 2 non supera lo 0 7 0 8 il mavic 3 che abbiamo testato l'altro giorno poi ti farò vedere ma vic 3 anche lui non supera lo 0 lo 0 il mavic 3 vabbè adesso vediamo ha raggiunto quindi a parità di volo un gsd peggiore 1,34 una precisione inferiore quindi 2,4 centimetri contro 1,8 è anche maggiore rispetto al mano sì cioè questa è la georeferenzazione qui dobbiamo capire perché siamo rimasti stupiti anche di queste sono missioni manuali perché il mavic 3 non ha le sdk non ha l'hanno praticamente introdotto solo con l'enterprise ecco ti volevo far vedere il range di image quality ragazzi 0 88 non arriva neanche non arriva a 09 no le vo 2 pro 0 96 il nano 0 91 quindi anche sul mavic 3 avremo da dire poi la nostra qui abbiamo no uno zene 98 su questo no su questo termogramma c'è ragazzi allora tornando all'ortofoto no dove noi praticamente vediamo il report sono 55 metri effettivi allora dimmi tu se una termocamera da 640 punti no da 55 metri riesce praticamente a fornirti un dettaglio del genere no è impressionante impressionante cioè ora qui pixel più pixel meno però questo questo è il target da 60 centimetri vabbè qui ho sgranato un pova andando un po lungo sono andato lungo ma è preciso anche sul modello come misurazioni è scalato questo modello e fra l'altro nelle reference qui abbiamo una precisione no da da paura questo anche le reti k qui si sta parlando di un modello 8 mm no su un ettaro cioè quindi questo proprio è un lavoro termico termico con un orto foto termica che sulla quale tu puoi fare delle indagini no abbiamo l'ingegner brunone che è un termografo che ci ha aiutato a fare delle indagini su un lavoro simile con il dual e guarda un po no con tu prendi i tif che hanno tutto e arrivi a questo dettaglio quindi questo è un parco fotovoltaico sticciato grazie alla qualità e si perché magari se non vediamo fuori guarda 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 che orto foto ha tirato e praticamente hai tutto radio mai tutto misurato va bene io ti ho un po bombardato però però è fondamentale perché vedere su internet magari restare solo alla pubblicità che fa diciamo la o la dj o l'auto robotica uno si può fermare soffermare solo su quello deve provare ecco dei test dei confronti questo è cioè il problema è di quello che fa scegliere direttamente noi siamo partiti un anno e mezzo fa con gianluca fa la cara il geologo che saluto sempre perché sono micazia l'obiettivo in realtà non è che uno fa il tifo per un brand o per l'altro allora tu devi vedere il mestiere che devi fare è su quello no noi siamo abbiamo fatto dei test quindi questi sono dati oggettivi inutile che la gente si infastidisce no perché noi non siamo degli youtuber questi video che vanno in onda poi li mettiamo sul nostro canale di non sport non hanno nulla a che vedere con obiettivi di ottenere link di ottenere like non ce ne frega niente perché noi abbiamo come dire un'azienda che vive sulla consulenza del sui droni non sui link sulle promozioni eccetera quindi l'obiettivo nostro è il cliente è fornirgli una soluzione non un cartone con un pezzo di ferro dentro quindi questo cioè io spero che tutti questi input ti possano servire per avere tutti gli elementi per decidere in serenità da un punto di vista tecnico poi ovviamente sappiamo i parametri sono sono tanti altri ma in questo momento il dual con quel con queste caratteristiche è imbattibile a meno che non andiamo allora io ho visto una qualità simile nell'h20 t cioè ma lì si va su un livello si sale di livello sul matrice no però ovviamente lì forse solo la fotocamera costa quanto tutto lì vai a spendere 11 mila euro soltanto di pelote ma in matrice altre complicazioni pesa 7 kg terminatore di volo non lo può indicare facilmente e qui si sta parlando di una macchina da un chile 2 no per una durata di volo superiore ai 30 minuti senza i problemi dei no flight delle no flight zone con batterie importanti con gimboli intercambiabili quindi tu fai una scelta fondamentale e non perdi l'investimento perché cambi no ti metti il 6k pro poi entri nel mondo fotogrammetrico di precisione dove lì ormai abbiamo dimostrato a tutto il mondo quello quello che vale il 6k e lo vedremo poi nel video che andrà in onda oggi pomeriggio un test contro il micro 4 test fatiamo il mito dell'assemblato del micro 4 terzi perché se da un punto di vista cinema cinematografico no fotografico eccetera ha un valore da un punto di vista fotogrammetrico ne ha un altro completamente diverso quindi mi dispiace deludere poi tutti fans del micro 4 terzi della dj ma la fotogrammetria un'altra cosa rispetto al cinema e alle foto quindi allora io ho un po abusato della come dire della tua presenza qui per introdurre un tema caldo visto che parliamo di termografia però era era dovuto perché per noi cioè i clienti sono importantissimi non ti devo dire devi spendere questo e poi che non è giusto perché tu magari io acquisto un prodotto che poi dopo mi ritrovo con un prodotto che non mi dà quello che che mi serve e poi ti chiamo di quanto la ma che cosa mi è venuto e quindi tanto tutto il mondo sa che noi siamo a tecnopolis siamo qui ci vengono a trovare ci vengono anche a trovare dalla svizzera della germania quindi figurati da a fragola da fragola va bene aldo per il momento ti ringrazio salutiamo tutti gli amici che ci seguono ci vediamo al prossimo video al prossimo test ciao ragazzi grazie a te grazie a te